Ordinaria amministrazione. Sicuro qui, eh? Molto bene. Non si è lasciato batter da questa conclusione. E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol. Eccolo. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del potere. Non poteva fare molto da quella distanza.